Nella giornata di oggi inauguriamo il nostro Temporary Shop Virgilio in via degli Orefici 41. Veniteci a trovare perché qui potrete degustare grana padano parmigiano reggiano a scaglie che verrà offerto appunto da noi e accompagnato da vini tipici locali come anche l'Ambrusco, Merlot, Cabernet e tanti altri che potrete anche ritrovare nei nostri cesti di Natale. Qui potrete acquistare diversi cesti di Natale di vari formati, di varie dimensioni, di conseguenza e anche costruiti materiali diversi. Oggi inauguriamo il nostro Temporary Shop con i prodotti tipici locali di Mantova. Abbiamo l'unico consorzio, l'atteria, Virgilio, con entrambi i DOP, grana padano e parmigiano reggiano. Entrambi vengono messi nelle nostre strenne natalizie, vengono consegnati direttamente a casa. Chi volesse eventualmente avere queste nostre strenne con il Corriere Mailbox di Mantova consegna addirittura a casa. Viene aperto dal giovedì alla domenica. I nostri prodotti locali della zona saranno le mostarde, abbiamo dei prodotti tipici locali, tipo mostarde, le sbrisolone, anche il nostro dolce tipico mantovano, con cui si abbina bene anche il grana padano e il reggiano. Temporary Shop è aperto da adesso fino a dopo l'Epifania, quindi a breve tempo, solo per le nostre strenne natalizie.